Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, consueto, tragicomico e demenziale disordine della mia libreria da me e da un altro video in cui si parla male dei carri armati inglesi inglesi di sicuro, ma definire carro armato, quello che sto per presentarvi è, diciamo, una esagerazione perché quest'oggi, cari signori, parliamo del Vickers A38 Valiant ovvero sia questo attrezzo qua allora, il Vickers A38 Valiant è, diciamo, è un derivato del discreto carro armato Valentine un, il Valentine è stato, sì, un discreto carro armato dal discreto successo che, come dire, fece la sua onesta parte in guerra non era oggettivamente un granché, però, insomma, funzionava abbastanza bene ecco qua un'altra immagine del Valiant allora, il Valiant nacque come, ripeto, nacque come sviluppo del Valentine come carro per fanteria armato, doveva essere armato col 17 libre con il 76 E2 ma si preferì dotarlo del normale 57 mm del 6 libre perché, dovendo essere inviato in Estremo Oriente sarebbe, insomma, il 57 mm poteva bastare contro i mediocri carri armati giapponesi però c'era un enorme problema siccome, cioè, notate bene la parte anteriore penso che si noti abbastanza bene la parte anteriore oh, scusate i miei soliti, i miei potenti mezzi qualche volta fanno, fanno decisamente ci lecca dicevo, notate bene la parte anteriore del mezzo ve la ingrandisco, eccola qua notate bene, allora, è infusione come il Matilda ed è praticamente estremamente più spessa, più grossa e più pesante rispetto alla parte posteriore in pratica un mezzo che pesava sieno 29 tonnellate in cui la maggior parte della corazzatura era concentrata sul muso cioè, è già va bene muso che come si vede che come si vede anche in questa immagine non era propriamente ergonomico e soprattutto aveva una sistemazione del pilota quanto meno problematica tant'è che era molto difficile per il pilota riuscire a infilarsi dentro e a volte rischiava pure di rimanere decapitato dai portelli che si chiudevano ma lasciamo stare insomma, fu costruito in un unico prototipo ed è probabilmente il più fallimentare il più disgraziato il più ignobile il più demenziale carro armato mai costruito probabilmente è l'equivalente cingolato del leggendario Zöber ve lo ricordate? l'LVS-6 Zöber il bombardiere polacco fatto di cose diverse che si disintegrava in volo perdendo le ali perché qualcuno insomma, vabbè non aveva idea di come progettare un bombardiere ok? ok questo molto probabilmente è l'equivalente è l'equivalente carrista il Valiant molto probabilmente è l'equivalente carrista del del disgraziatissimo Zöber o del nostro Breda BA88 l'INCE cioè rendiamoci conto persino i nostri carri M erano meglio di questo perché? vi chiederete voi allora il discorso è sempre il solito come ho già spiegato più volte quando si parla di carri armati inglesi va detto che l'industria come dire che l'industria pesante inglese l'industria meccanica inglese fu colta completamente di sorpresa da Dunkirk i carri armati l'esercito metropolitano inglese perse come dire completamente tutti i materiali a Dunkirk e dintorni e in gran fretta dovettero adattarsi a costruire quello che già era disponibile ritardando l'introduzione di nuovi mezzi più efficaci e all'altezza degli equivalenti tedeschi ripeto fino al 1941-42 i nostri carri M in confronto ai carri cruiser inglesi non erano poi così inferiori anzi anzi ma il valentine che come dire aveva ripeto era un mezzo da 25 tonnellate la maggior parte delle quali concentrate nella corazzatura anteriore rendiamoci conto ecco quindi vi lascio anche immaginare lo sbilanciamento del peso ok dicevo era un era un un carro armato propulso da un motore diesel gmc da 210 cavalli aveva una velocità massima di circa 20 km orari su strada e di 11 km ora è di sì di 11 km orari su su strada era armato con ripeto si era pensato di dotarlo del 76 e 2 mm del 17 libre ma si preferì adottare il normale 6 libre il QF 6 pounder il 57 mm noto anche per essere montato sul sul Churchill e i 114 mm di corazzatura erano praticamente solo anteriori vi lascio immaginare allora rimase praticamente a livello di prototipo e ripeto era derivato dal discreto discreto valentine e allora venne presentato allora il progetto per il valiant che veniva conosciuto anche come A38 venne presentato dalla Vickers nel 1943 aveva ancora molte componenti del del valentine e la corazzatura ripeto era stata aumentata soprattutto nella parte anteriore sbilacciando il mezzo ripeto era previsto il l'ordnance QF 17 pounds da 76 e 2 mm il cannone che armava il firefly insomma ma il prototipo l'unico prototipo realizzato dalla Ruston and Horn aveva il 57 mm allora i tempi di realizzazione del valiant si dilatarono enormemente perché oggettivamente io ho come l'impressione che i progettisti non sapessero che cacchio fare diciamoci la verità e poi vi spiegherò anche il perché in pratica questo in pratica questo questo mezzo fu pronto il prototipo fu pronto solo nella metà del 1944 quando oramai erano in servizio Sherman a strafottere erano in servizio Sherman a strafottere Firefly a profusione il Churchill era a disposizione erano a disposizione come anche i discreti ultimi modelli di Cromwell e già si preparavano i prototipi per il per il Comet e per il superlativo Centurion e il progetto fu fortunatamente cancellato perché qua si trattava di un mezzo che definire pericoloso è poco ma non pericoloso per il nemico pericoloso per chi lo guidava innanzitutto la sistemazione dell'equipaggio era oggettivamente pessima scomoda e invivibile ma il pilota cioè rendiamoci conto una cosa il pilota fu fatta una sola singola prova del Valiant il pilota poveretto era costretto a usare aveva il sistema di sterzo a leve doveva buttarsi con tutto il suo peso sulle leve per ottenere un qualche effetto sterzante perché avevano sbagliato l'ergonomia delle leve avevano completamente sballato se vogliamo tutto il circuito frenante insomma un disastro il sistema di guida del Valiant era un disastro estremamente stancante dopo 3 km dopo 3 o 4 km il pilota era fisicamente distrutto e non riusciva praticamente più a muoversi in più c'era anche una simpatica caratteristica si frenava si frenava il pilota doveva frenare con il tacco e premere la frizione con la punta del piede solo che c'era un problema i due pedali erano sistemati in maniera tale che frenando si rischiava di incastrarsi il piede con il pedale anteriore davanti e di ritrovarsi con la gamba staccata di netto è è il genio cioè il l'esercito si rifiutò di testare il Valiant fecero una sola prova che durò mi pare 5-10 km non di più il il pilota quando riuscì a uscire fuori miracolosamente intero ripeto miracolosamente intero probabilmente è andato a casa dei progettisti e li ha picchiati e avrebbe fatto anche bene perché oggettivamente si tratta di un mezzo veramente pessimo di un mezzo assolutamente inutilizzabile di un mezzo ignobile di un mezzo che come dire più sbagliato di così non si poteva cioè se si parla male giustamente del carro italiano del cosiddetto carro pesante italiano P40 cioè il P40 che già era uno scassone di suo fa la figura dell'astronave in confronto del Valiant cioè siamo sinceri il Vickers A38 ripeto era un mezzo nato male progettato peggio e costruito veramente in maniera delirante gli inglesi quando ci si mettono di buzzo buono riescono a produrre veramente delle cose terribili cioè qui siamo veramente a livello di certe cioè siamo veramente a livello di certe di certe cose che gli inglesi hanno fatto in ambito automobilistico tipo la Reliant Robin la tre ruote ve la ricordate avete presente cercatevi Reliant Reliant Robin ok guardatela e poi paragonatela paragonatela con paragonatela con il Valiant cioè allora se la Reliant Robin era un un aborto automobilistico il il Valiant fu indubbiamente e molto probabilmente il più inutilizzabile carro mai pensato nella storia delle guerre assolutamente inutilizzabile inguidabile cioè rendetevi conto rendetevi conto in cinque la prova l'unica prova fatta con il Valiant prima della fortunata cancellazione del programma vide quel povero disgraziato del pilota rischiare di perdere una gamba perché i due pedali cioè il freno di azionare col tacco e la frizione di azionare con la punta cioè rischiavano di tranciargli di netto il piede e la gamba eh per non parlare poi del fatto che entrare e uscire dai portelli anteriori del Valiant dai portelli anteriori del pilota ti faceva rischiare la decapitazione per dire insomma un un disastro cioè non un carro un disastro un macello cioè ci lamentiamo tanto e signori scusate c'è stato qualche piccolo problema tecnico con la con la videocamera dicevo dicevo se gli inglesi ci prendono in giro perché noi avevamo messo in servizio il carro L6 ecco lo L6 lo L6 e noi patrioticamente possiamo ricordare ai sudditi di sua graziosa maestà britannica che loro loro avevano messo avevano pensato di mettere in servizio questo perché ripeto almeno lo L6 non storpiava il pilota almeno lo L6 lo guidavi cioè il Valiant il pilota del Valiant veramente dopo circa venti minuti alla guida prese usci fuori dal mezzo e disse semplicemente mi rifiuto di guidare questo a crocco perché perché frenando cioè ripeto aveva rischiato di perdere una gamba il Valiant si frenava il pedale del freno si frenava col tacco e con quel sistema il piede si incastrava tra il pedale del freno e il pedale della frizione e vi lascio immaginare cosa poteva succedere e ripeto buttarsi con tutto il peso sulla leva di sterzo per far per non riuscire a far girare il mezzo ah poi altra piccola cosa lo sapevate che le linee di lubrificazione del Valiant erano all'esterno? eh sì cercatevi cercatevi sulla mi sono dato sono un pochino sbizzarrito a cercare su internet le foto cercatevi un attimo le foto delle linee di lubrificazione delle linee idrauliche dei freni del Valiant cioè rendetevi conto le aveva all'esterno cioè le linee di le linee del circuito idraulico dei freni fissate con delle fascette alle sospensioni cioè non avevano neanche messo non avevano neanche protetto le linee idrauliche dei freni rendiamoci conto le linee idrauliche dei freni erano allo scoperto rendiamoci conto di questa cosa altro difetto che me l'ho dimenticato e poi scusate una cosa per fortuna ripeto e sottolineo per fortuna grazie al cielo grazie al cielo a questo a questo a questo a questo a questo a questo non gli hanno a questo non non gli hanno montato il Nuffield perché se gli avevano se gli avessero montato il motore Nuffield Liberty L12 ci sarebbe stato veramente da ridere e allora insomma insomma signori veramente di che prendere i progettisti e di appenderli alle gabbie fuori dalla torre di Londra lasciandoli beccare dai corvi perché quello si sarebbero meritati cioè altro che altro che 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 i lavori forzati nelle nelle colonie penale australiane cioè questi andavano letteralmente arsi al rogo i progettisti di questa cosa neppure i progettisti italiani sono riusciti a fare una cosa simile neanche il più delirante progettista francese ha mai concepito una cosa se un russo avesse concepito una roba così sarebbe stato spedito a spalare uranio nelle miniere della Vorkuta a mani nude come nemico del popolo pensateci insomma signori che vi posso dire il Valiant il Vickers A38 Valiant indubbiamente molto probabilmente il più osceno delirante ignobile rivoltante ammasso di merda in forma di carro armato che sia mai stato anche solo pensato del Covenanter ne fecero 1771 ma almeno quello lì anche se a suon di martellate la retromarcia entrava signori signori il Valiant non riusciva neanche a sterzare pensateci pensateci bene insomma cari signori ripeto scusate per l'inconveniente tecnico mi era andata in tilt la telecamera spero che il video vi sia piaciuto spero come dire la piantiate di rompermi i coglioni col mio antipatriottismo io quando è il momento di parlare male di qualcosa parlo male di tutti senza riguardo a alcuno ok e ripeto e sottolineo certi carri armati inglesi sono veramente abominevoli e il Valiant ne è l'esempio più clamoroso il povero covenanter vabbè lasciamo stare era nato sfigato ma il Valiant il Valiant il Valentine da cui derivava aveva era un discreto carro aveva delle buone qualità il Valiant ma il Valiant cos'era? il Vickers a 38 Valiant che cos'era? vi supplico che cos'era? che cos'era? trovatemi voi una definizione perché io più che aborto cingolato più che realmente sacco di letame sacco di letame corazzato io non so come cazzo definirlo perché è veramente qualcosa di ignobile tutto qua quindi cari signori io come sempre vi ringrazio per l'attenzione come sempre aspetto i vostri commenti come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao